Francesco Forte, uno dei massimi economisti italiani, si è spento il primo giorno del nuovo anno. Era nato nel 29 a Bustarsizio, in provincia di Varese, ed era molto legato alla Valtellina. Suo padre Stefano, nativo di Salerno, è entrato in magistratura giovanissimo dopo aver girato per varie sedi. Nel 39, con la nomina a procuratore del re, era stato trasferito a Sondrio. Nel nostro capoluogo Francesco Forte ha vissuto tappe importanti della sua vita. Gli studi al liceo Piazzi, conclusi con voti eccellenti, poi si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza a Pavia. Nel 51 la laurea con l'ode e menzione per la stampa con una tesi in scienza delle finanze. Nel 54 divenne supplente di Ezio Vanoni, di coer assistente, all'Università di Milano. Nel 61 divenne professore ordinario di scienza delle finanze all'Università di Torino, dove fu chiamato a succedere a Luigi Einaudi da Einaudi stesso. Fu responsabile economico del Partito Socialista Italiano fino all'82, quando divenne ministro delle finanze del governo Fanfani. Nel governo Craxi I fu ministro delle politiche comunitarie fino all'85, quando si dimise per diventare sottosegretario delegato per gli interventi straordinari nel Terzo Mondo. Ricopì la stessa carica anche nel governo Craxi II fino all'87. È stato sindaco di Bormio dall'88 al 91. Ecco uno stralcio dell'intervista che lasciò ai nostri microfoni in occasione del convegno organizzato a Morbegno per ricordare Ezio Vanoni, statista che aveva un'idea ben precisa per lo sviluppo dell'Italia. Un piano economico a lungo termine per assicurare al Paese uno sviluppo adeguato con investimenti adeguati e consentire anche che tutti avessero un'occupazione. Però riteneva che fosse fondamentale l'impresa e il mercato come criterio di selezione economica e la cosa più importante nel piano è che egli dava la priorità agli investimenti produttivi rispetto ai consumi e riteneva che la socialità si attuasse tramite questo indirizzo che potremmo chiamare di rigore per dire che la priorità è agli investimenti e non a una socialità effimera.